Ho deciso di fare questo video per parlarvi un attimo di Necchi. Perché? Perché qualcuno mi chiede, ma perché proprio la Necchi? Me la consigli? Allora, innanzitutto certamente te la consiglio, perché ho scelto Necchi? Perché sono andata proprio io a chiedere a Necchi se potevo in qualche modo parlare delle Necchi. Perché le Necchi sono state il mio primo amore, diciamo così. Io ho iniziato a cucire con una Singer, che era una Singer di mia mamma, che allora l'aveva acquistata nel 54 e ancora adesso funziona, ma le Singer non sono più quelle di una volta. Mentre io ho iniziato, diciamo, con la Singer, ma poi sono andata subito con la Necchi perché mio papà ha acquistato, quindi ha acquistato delle Necchi industriali e le ha messe nel suo laboratorio. Sapete che io ho dei genitori che avevano la sartoria e quindi ho imparato nella sartoria di papà. E ho utilizzato sempre macchine da cucire Necchi. Quindi le ho viste affidabili, ho visto che erano delle buone macchine. La mia macchina professionale piccola di casa, diciamo, è sempre stata una Necchi. Io ho acquistato una Necchi nuova anni e anni fa che ho ancora e mi sarebbe piaciuto continuare ad utilizzare le Necchi. E per questo ho contattato la Necchi. E per questo parlo delle Necchi. Le Necchi hanno una storia meravigliosa perché la Necchi nasce in una fabbrica dove non facevano macchine da cucire, facevano tutt'altro. Ed è stato da una richiesta, che mi è piaciuta molto questa storia, dalla richiesta della moglie di questo imprenditore, perché gli chiede, ma perché non progetti una macchina da cucire per me? Perché amava cucire. E quindi che cosa succede? Che il marito ascolta la moglie, progetta una macchina da cucire, questa macchina da cucire non la progetterà solo per la moglie, ma ne farà poi una produzione. E queste macchine sono poi diventate, come dire, delle macchine conosciute in tutto il mondo e quindi delle macchine importanti. È sempre stata la Necchi attenta e ha avuto un occhio di riguardo per le persone che amano il cucito e quindi sono andate sempre migliorando il loro aspetto esteriore, ma anche le loro funzioni. Infatti avremo macchine elettroniche, macchine meccaniche, avremo macchine che riescono a ricamare e macchine stupende. La logica anni fa fu premiata e, se non sbaglio, il suo design è stato progettato da un grande disegnatore. Quindi tutto questo la fa diventare la macchina italiana per eccellenza. Ora, come sappiamo, anche la Necchi non è più così italiana, ha il nome, ma non viene prodotta del tutto in Italia, anche se rimane legata all'Italia. E il fatto che comunque sia una nostra, un nostro vanto, questo mi fa contenta, mi inorgoglisce. Per questo parlo delle Necchi, per questo voglio far parte delle Necchi. Io ho deciso che la Necchi sarebbe stata la mia macchina del cuore, perché funziona bene, è affidabile e ha dei prezzi contenuti rispetto ad altri. Quindi, se noi andiamo a pensare, mi serve ad esempio una macchina da cucire, per cucire ad esempio delle bellissime, dei bellissimi jeans, un giubbotto in pelle, la Necchi ha pensato anche a questo, perché ultimamente abbiamo una Necchi Creator che riesce a cucire perfettamente anche jeans e pelle e quindi meraviglia. Poi abbiamo un'altra macchina stupenda che non costa tantissimo che è l'HP04, per chi volesse iniziare con una bella macchina elettronica che non costi tantissimo e che sia facile da impostare. Ecco qui che abbiamo l'HP04. Sono macchine che vanno perfettamente e che cuciono quasi tutto. Dico quasi tutto perché anche la P04 cuce i jeans, io lo cucio, naturalmente devo andare un attimino più piano perché è un tessuto piuttosto spesso, specialmente dove abbiamo le ribattiture. Quindi se voglio andare più tranquilla vado con la C35 se non erro, è che sono talmente tante che a volte potrei sbagliare i numeri ma se avete intenzione di acquistare una macchina da cucire o una taglia cuci, affidatevi tranquillamente a Necchi e mettete il codice sconto che vi dà la possibilità di risparmiare ancora il 5%. Quindi i prezzi sono sempre molto bassi ma in più avete questa possibilità di aggiungere il mio codice sconto che è Fprozen 1020. Per tutte le amanti del ricamo è uscita anche la Creator 2000 che è una macchina fantastica che mi piace tantissimo e mi fa venire una gran voglia di acquistarla e che naturalmente potrà realizzare magari per chi sogna tessuti particolari dei ricami anche particolari. In certi abiti potrete creare cose fantastiche ma per chi ama invece il ricamo in in tovaglie, in lenzuola, in runner, potrete realizzare cose stupende. Io l'ho vista al lavoro ed è veramente fantastica. Quindi Necchi realizza veramente i vostri sogni e con Necchi possiamo stare tranquilli perché semmai dovessero esserci problemi. Necchi interviene, interviene velocemente perché può capitare che anche una macchina affidabilissima possa un domani avere necessità di un piccolo intervento. Necchi ha i suoi tecnici ovunque, quindi su tutto il territorio italiano e proprio per questo la rende ancora più affidabile. Se hai domande, perché io ho solo menzionato pochissime macchine, ma se hai domande e dubbi, scrivimi nei commenti e sarò felice di risponderti. Forza con i commenti!